Ben rivisto Mirko, intanto come stai? Perché il polpaccio ti ha dato un po' di fastidio nell'ultima settimana. Sì, adesso sto un po' meglio, alla fine un pochino lo sentivo, però sto decisamente meglio. Primo tempo, io sono sincero, non ho visto il solito Drudi perché ha sbagliato qualche appoggio che Drudi non sbaglia mai. Però poi nel secondo tempo, quando Nocciolini ha calciato a botta sicura, ha evitato il gol del 2-2. Sì, diciamo che nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, un po' tutti. Tecnicamente di solito noi non facciamo quegli errori, eravamo un po' forse frenetici rispetto al solito e abbiamo sbagliato qualcosina, io per primo. Il secondo tempo è andato un po' meglio. Per voi in difesa sì, però il Pescara rischiato. Per noi in difesa sì, non abbiamo fatto un'ottima partita direi, però anche quando non giochi bene è importante vincere, portarle a casa. Ci spieghi un po' quell'azione finale con Nocciolini che ha preso il palo, con Cernigoi che ha inseguito ma non è riuscito a fare il filtro. Lì eravamo un po' troppo scoperti. Sì, ci sono scontrati mi sembra Cernigoi e Derisio e questa palla è sbucata fuori, è arrivata Nocciolini, siamo andati a contrasto e per fortuna la palla è finita sul palo. Te lo aspettavi i quattro gol subiti dal Cesena a Montevarchi? No, no. Sì, si riapre. Chiaro che non è facile, adesso portare via punti è difficile per tutti in tutti i campi, soprattutto quando devi andare a incontrare squadre che si devono salvare, però noi ci proviamo fino alla fine.